Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora una truffa ai danni di un'anziana che però prontamente ha denunciato l'accaduto e i carabinieri hanno così arrestato i responsabili. Un'altra anziana truffata nell'Aretino, l'ultimo episodio in ordine di tempo, è accaduto l'11 dicembre all'Evane in Valdarno. È stata la vicina di casa a convincere la vittima a rivolgersi alle forze dell'ordine e lanciare l'allarme e i truffatori sono stati arrestati. A condurre le indagini sono stati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. L'anziana era stata truffata con una delle truffe più frequenti, i finti carabinieri. Uno di loro l'ha contattata al telefono dicendole che il figlio aveva investito una persona che per evitare conseguenze gravi avrebbe dovuto pagare l'avvocato, al quale a sua volta il figlio aveva già anticipato, secondo i truffatori, 3.500 euro. Cifra però insufficiente, così la signora era stata invitata a recuperare il denaro custodito in casa e altri oggetti in oro. La donna, in preda al panico, ha affidato 4.300 euro al truffatore. Poco dopo però si è accorta del raggiro e asporto denuncia. I carabinieri sono dunque riusciti, grazie alla descrizione e alle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato la targa, a intercettare l'auto a bordo della quale erano fuggiti i truffatori, un ventenne, un ventiduenne e un sedicenne. I primi due sono stati arrestati, il sedicenne è stato denunciato e affidato ai genitori. La refurtiva è stata recuperata. Un incidente stradale questa mattina a Sansepolcro dove un uomo di 86 anni è stato investito mentre era in bici. La persona è rimasta gravemente ferita e trasportata in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza, urgenza e le forze dell'ordine. E ancora cronaca, un ennesimo episodio di violenza ai danni di un'operatrice sanitaria del Valdarno. Tutto è nato, secondo quanto denuncia il sindacato Nurzid, a causa di una divergenza di vedute tra infermiere e parente di un'assistita che avrebbe preso di mira la sanitaria, prendendola per il abavero, strattonandola, urlandola e minacciandola. È successo nei corridoi di una casa della salute. Abbiamo sicuramente bisogno di norme di sicurezza d'oc per infermieri di famiglie e comunità, ma crediamo necessario tutelare i colleghi in ogni modo possibile, ha dichiarato il segretario di Arezzo del Nurzid, Claudio Cullurà. Siamo impegnati da tempo nel contrasto del fenomeno e personalmente ho sostenuto e accompagnato colleghi vittime di episodi di violenza, sporgere e querela, denunce che hanno portato anche al rinvio a giudizio di alcuni presunti responsabili. E adesso ci spostiamo invece all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato eseguito per la prima volta in Toscana un intervento di sostituzione valvolare e aortica in una struttura priva di cardiochirurgia. Ciò che è veramente innovativa e che è stato fatto per la prima volta in Toscana e fra i primi centri a livello nazionale, in un ospedale che è privo di cardiochirurgia e quindi sono gli albori di una nuova era. È stato eseguito per la prima volta all'ospedale San Donato di Arezzo un intervento di sostituzione valvolare e aortica per via percutanea, un'importante opzione terapeutica per i pazienti più fragili. Significa utilizzare un gesto per il paziente molto molto più semplice, in anestesia locale o con leggera sedazione. L'intervento su un paziente di 88 anni si è svolto nell'ambito di uno studio clinico multicentrico coordinato dall'Università di Ferrara e per la Toscana dalla cardiologia interventistica del Policlinico Le Scotte. È possibile andare ad inserire uno stent, cioè un anello metallico, dentro una valvola biologica simile a quella valvola che si usa in un intervento chirurgico attraverso un approccio transcutaneo, quindi entrando come si fa con un'angioplastica normale e si va ad aprire questa protesi all'interno della valvola calcifica chiusa. Il momento chiave dell'intervento dove si osserva la protesi valvolare che viene gonfiata attraverso un pallone nell'anello aortico. Il paziente già dalle prime ore post intervento ha potuto spontaneamente alimentarsi e già da questa mattina autonomamente si è alzato, si è immobilitato e quindi in pochi giorni di degenza potrà tornare a casa alla sua normale attività quotidiana. Un'ulteriore opportunità terapeutica senza spostarsi nei centri con cardiochirurgia dove spesso vi sono lunghe liste d'attesa. Quindi la possibilità di aprire a centri che hanno le competenze specifiche, che hanno tutto un background di tipo culturale e tecnologico che consente di fare questi interventi, consente ovviamente di estendere, anche dal punto di vista di accessibilità e di equità alle cure, consente di estendere questo intervento ad una popolazione molto più ampia. Fondamentali per salvare le vite anche le manovre di primo soccorso. Ad Arezzo il numero delle persone formate sfiora le 40.000. Vediamo. Attivo subito i mezzi di emergenza, quindi chiamo subito l'112 per avere assistenza immediata. Controllo la respirazione come seconda cosa. Se il torace è fermo, comunica all'operatore che questa persona non sta respirando e inizia a fare il massaggio al minuto. Il danno al nostico cerebrale inizia dopo 4-5 minuti, quindi prima si interviene, minori sono i danni al cervello. Pochi e semplici gesti che possono però salvare delle vite. Stiamo parlando di BLSD e delle manovre di rianimazione in arresto cardiaco. Manovre che noi cerchiamo di far fare in caso di arresto cardiaco direttamente sul posto, ai familiari quando viene in casa oppure ai passanti o chi si trova di fronte a questa circostanza, perché appunto il tempo che intercorre tra la chiamata e l'arrivo del mezzo di soccorso spesso può essere fatale, quindi può essere troppo e quindi la persona potrebbe non sopravvivere. Mentre invece se fatte queste manovre e dove è possibile utilizzato un defibrillatore, la sopravvivenza incrementa di circa il 30%. Prima della fine dello sterno metto la mano, incrocio l'altra sopra e inizio le compressioni colasiche ad una frequenza di 100-120 al minuto. La provincia di Arezzo è una delle più cardioprotette d'Italia anche grazie al progetto Arezzo Cuore nato nel 2010. Ad oggi sono quasi 1.500 i defibrillatori installati, più di 40.000 invece le persone formate. Sono tanti, sono dislocati logisticamente nel territorio dove si pensa possano servire di più. Sono tanti anche quelli privati, quindi semplici cittadini che se lo sono comprati, l'hanno alcuni reso addirittura a disposizione della popolazione, quindi mettendolo su una strada, su un condominio. E tantissimo è stato appunto l'apporto dato dalla scuola, perché appunto insieme al centro etrusco e al provveditorato agli studi abbiamo fatto un progetto analogo, parallelo a quello dell'Arezzo Cuore, che è Arezzo Cuore Scuola, formando circa 14.000 studenti delle scuole alle manovre di rianimazione. Proprio grazie ad un corso nelle scuole, la scorsa estate un giovane Boy Scout aveva salvato la vita al papà di un amico in arresto cardiaco, una storia che aveva destato grande clamore. Il nostro Alessandro che ha salvato Marcello pochi mesi fa, avendo appunto seguito le lezioni dell'insegnante di scienze motorie. Serve pochissimo, sono veramente poche ore, fanno la differenza. Veramente è importante che tutti riescano a fare almeno una volta un corso per imparare le prime manovre. Si impara rapidissimamente, l'utilizzo del defibrillatore è stra-semplice, lo può imparare chiunque. Posiziono, ascoltando quello che mi dice, posiziono le piastre, seguendo il disegno, mi accerto che io non stia toccando il paziente, nessuno lo sta toccando. E quando il pulsante rosso lampeggia di rosso, lo schiaccio e riprendo subito il massaggio cardiaco. Il primo passo nella catena della sopravvivenza e primo soccorso resta la chiamata al 112. Il tempo della chiamata non è un tempo sprecato, infatti durante la chiamata l'operatore della centrale operativa dà delle istruzioni ai familiari, alle persone che si trovano di fronte, insieme alla persona che sta male, per aiutarlo nei primi minuti nell'attesa del mezzo di soccorso, perché possiamo fare la differenza anche in quei pochi minuti. Sì, sì, i mezzi di soccorso sono già partiti, signora. Ok, non respira? Avete fatto un corso per fare il massaggio cardiaco, sapete come si fa? Come nel caso dell'arresto cardiaco, che è l'esempio più eclatante, nel quale se non si interviene subito si ha una altissima probabilità di perdere questa persona, ma anche nei malori più semplici. Quindi ascoltate e rispondete alle domande dell'operatore della centrale 112, in modo tale da poter aiutare la persona. Cominci a comprimere, prema forte, dall'alto verso il basso, insieme a me. Uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove. E proprio alla personale sanitario, questa mattina ad Arezzo, è stato dedicato un largo. Siamo ormai usciti, mi verrebbe da dire forse definitivamente, dal Covid, quindi dall'emergenza sanitaria mondiale, ma i nostri medici, i nostri infermieri, tutto il personale sanitario sono accanto a noi tutti i giorni. Quindi il fatto di ricordarli nella quotidianità dimostra un'attenzione che non si ferma mai. Un omaggio a tutti gli operatori della sanità duramente colpiti durante la pandemia. Ad Arezzo è stata così inaugurata la nuova intitolazione toponomastica, largo personale sanitario, a pochi passi dall'ospedale San Donato di Arezzo. La nuova intitolazione era stata approvata nel gennaio 2021 all'unanimità dal Consiglio Comunale, a seguito di un atto di indirizzo presentato dai consiglieri Simon Pietro Palazzo e Mattia Delfini. Nasce sicuramente come iniziativa in virtù dell'esperienza anche drammatica fatta durante l'epidemia Covid, ma che rimarrà nel tempo a sottolineare l'impegno, la forza, la professionalità, la dedizione con la quale i nostri operatori quotidianamente garantiscono l'assistenza ai pazienti che afferiscono alle nostre strutture. È necessario però che questo riconoscimento venga poi seguito da tutto il riconoscimento delle competenze e chiaramente anche dal punto di vista economico, perché il personale sanitario in questo momento, che è comunque colonna portante del sistema sanitario, ha necessità di un personale che sia anche riconosciuto da questo punto di vista. Quindi noi saremo pronti sempre a dare queste dimostranze sui tavoli istituzionali e spero che la politica possa poi ascoltarci. A pochi passi dal largo personale sanitario prenderà forma la cittadella della salute. Stiamo portando avanti un percorso condiviso con tutti i soggetti poi dopo interessati, quindi con ASL, si parla del Pionta, quindi anche dell'università, un percorso che darà una risposta proprio in termini di nuovi immobili destinati alla sanità, una piccola cittadella della sanità che va a riqualificare quelli che sono degli spazi che da tempo erano oggetto anche di degrado e che quindi in questa maniera riusciranno a dare una risposta, sia in termini di decoro ma anche di risposta sanitaria. Al Colle del Pionta sarà operativo anche nella prima metà del 2024 il Centro Autismo, frutto della collaborazione tra Comune e ASL, e sarà il primo in Toscana e tra i pochi in Italia che avrà la funzione di tenere assieme risposte sanitarie, azioni sociosanitarie, progettazioni innovative, sociali e sensibilizzazione culturale per l'autismo e più in generale per le disabilità intellettive. I lavori sono già in via di conclusione, ossia entro la fine del 2023. In Piazza Grande invece questa mattina è stata inaugurata una targa nella fontana per ricordare l'arrivo dell'acqua in città. 760 anni fa arriva l'acqua in Piazza Grande alle soglie, ai piedi di Palazzo di Fraternita, alla Casa degli Aretini e di coloro i quali hanno necessità, insomma raccontiamo e risottolineiamo la generosità in chiave contemporanea. Era il 18 maggio del 1603 quando l'acqua arrivò in Piazza Grande per Pasqua, al termine delle opere iniziate nel 1593 per la costruzione del nuovo acquedotto della Fraternita dei Laici. La Fraternita dei Laici decise di portare l'acqua da Cognaia qui in città all'inizio del 1600 perché doveva realizzare un'opera di misericordia corporale, dare l'acqua agli assetati. Adesso il Lions Club Arezzo Mecenata ha installato una targa per la fontana di Piazza Grande su commissione della Fraternita. Il Lions Club Arezzo Mecenata ha voluto donare questa targa alla fontana di Piazza Grande proprio per ricordare il simbolo che questa fontana rappresenta per Arezzo e anche per essere vicina agli Aretini e alle istituzioni. 760 anni di opere sociali, di tutela sociale, si confermano oggi insieme con i Lions e Arezzo Mecenate a favore della comunità di Arezzo. Insomma la storia ci insegna che bisogna sempre aiutare gli Aretini. Ci spostiamo adesso in Valdarno dove ieri sera ha suscitato stupore e curiosità il greggio di pecore che ha attraversato, come vediamo in queste immagini, Viale Gramsci, proseguendo poi il suo percorso guidato dal pastore De Cani verso San Giovanni per poi raggiungere presumibilmente una zona di campagna. Una scena che è stata immortalata dai residenti che hanno poi condiviso il video sui social. Ancora ignote le ragioni di questa transumanza cittadina così come la destinazione finale del greggio. Voltiamo pagina le farmacie comunali al fianco di Teleton per migliorare la vita delle persone affette da malattie genetiche. La fondazione ha rinnovato infatti la tradizionale iniziativa solidale Cuore di Cioccolato Teleton in vista delle festività natalizie. Ha dato vita ad un network diffuso sul territorio per promuovere una raccolta fondi in sostegno alla ricerca scientifica finalizzata alla cura e alle diagnosi delle patologie rare. Una rete che comprende le otto farmacie comunali di città e frazione dove fino a domenica 7 gennaio saranno in distribuzione le confezioni il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza. E con l'avvicinarsi del Natale, l'atmosfera magica è arrivata anche al Valdichiana Village. La pista del ghiaccio, la musica e le luminarie è davvero tutto pronto al Valdichiana Village per accogliere i turisti in questo periodo natalizio. L'atmosfera natalizia c'è tutta, dalla musica alle luci, insomma il Valdichiana si è vestito a festa. Assolutamente sì, abbiamo trasformato il Village come ogni anno in un ambiente ricco di atmosfera atmosfera natalizia per le famiglie, per un pubblico che ha voglia di passare qualche ora in armoria e rilassatezza. Da Badia a San Salvatore. Prima volta qui all'Outlet? No, siamo venuti spesso. Scegliete per i vostri acquisti, perché? Perché ci piace, è conveniente e poi è un bel posto dove passare una giornata anche con la famiglia. Abbiamo completamente rivestito il Village con delle lounge nuove, quindi nuovi arredi. Abbiamo portato al suo centro la pista di pattinaggio, un'attrazione che sta andando veramente molto forte. Ci sono dei piccoli eventi come quello che abbiamo oggi, un evento musicale. E poi vi è appunto questa atmosfera natalizia che ci perbade. Un turismo che in questo caso si caratterizza un po' come un turismo interno. Comunque parliamo del centro Italia, insomma queste sono le zone, il Lazio da cui arrivano la Campania, ma immagino anche dal nord, da cui arrivano insomma i tanti visitatori. La nostra meta è stata premiata per questo, nel senso che il pubblico appunto ci raggiunge da tante mete diverse dal solito. Parliamo appunto molto al di fuori della Toscana, parliamo appunto ovviamente dell'Umbria, ma dal Lazio, dalla Campania. È un pubblico variegato, un pubblico che sempre ci sta premiando perché i numeri sono in forte crescita. Stiamo andando meglio rispetto anche al 2019, quindi questo ci fa ben sperare per chiudere un anno che sarà un anno da record per il Val di Chiana. Torniamo in una città, la compagnia del Polvarone torna in scena con una nuova commedia. Cantano, suonano, tra l'altro sono gli strumenti di una volta, chiaramente una bellissima fisarmonica, una chitarra e un tamburello. Cantano anche e, come ho detto, faranno da contrapunto ai vari momenti della commedia. Il tutto ovviamente siamo sempre negli anni Sessanta perché noi rigorosamente con il nostro vernacolo rispettiamo i tempi. Si chiamano ieri da capo e con i loro stornelli e musiche dal vivo hanno reso ancora più divertente la commedia scritta da Roberta Sodhi. Io gli davo il là, ho detto mi occorre una canzone che parli di questo perché in questo punto ci vuole così. E loro hanno guardato nel loro repertorio che è molto ampio e si sono trovate. La compagnia del Polvarone è così tornata in scena al teatro Pietro Aretino con il nuovo spettacolo Brigitta da Mimbacino. La pièce in vernacolo Aretino si svolge in una piazzetta del centro storico dove il bar Paradiso fa da sfondo ad avventori che consumano il loro quartino di vino tra lazzi, burle e racconti che si intrecciano con le storie e i personaggi del quartiere. D'altra parte il Polvarone è sempre stato così, c'è sempre qualcosa di nuovo. L'idea di questa serata è che abbiamo inserito un gruppo, un gruppo di stornellatori, di ardacapo, che faranno da colonna sonora a tutta la commedia. Praticamente non abbiamo più musica, la musica la faranno loro e noi crediamo che sia un binomio che funzionerà grande. Chiaramente è la prima volta, ma sono sicuro che andrà benissimo. Passiamo alla pagina dello sport, le sincronette della Chimera Nuoto in vasca per il saggio di Natale. L'appuntamento è fissato per le 18 di sabato 16 dicembre, quando il Palazzetto del Nuoto ospiterà il primo evento dedicato al sincronizzato, con una serata di festa per valorizzare il gruppo di atleti di una disciplina che combina elementi di nuoto, ginnastiche e danza. Il saggio di Natale segue di pochi giorni il debutto stagionale nel campionato regionale propaganda che ha visto una squadra della Chimera Nuoto mettersi alla prova nella piscina di Pontassieve in un programma individuale di esercizi obbligatori dove Gaia Silvestri ha meritato il bronzo tra le esordienti B. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.